Sì, sì, come mai qua? Eh, qua perché, beh, per un mondo più pulito, sembra banale, ma per noi... Sì, ma tu destini molto tempo a questa cosa? Sì, beh, sono cinque giorni, ho dato la mia disponibilità totale, volontariato... L'avevi già fatto? L'avevo già fatto due anni fa, sempre la solione del gusto, l'Oval, e insomma... Mi piace anche rendere la gente partecipe del fatto che abbiamo delle buone intenzioni... Organi, sì, organi. Eh, poi ci dobbiamo controllare immediatamente. Anche nel quarto di regno? Sì, grazie. E nella vita che fai? Nella vita sto cercando lavoro, adesso ho lavorato per un po' d'anni, crisi, non crisi... Pensi che questo volontariato possa anche servirti magari per il lavoro? Io spero, spero che ne tengano conto, poi spesso il volontariato non è neanche preso molto in considerazione perché non è una vera e propria esperienza lavorativa. Irene.